Mattinata di riunioni con i suoi collaboratori nella sede elettorale per Giuseppe Sala, candidato del centro-sinistra a sindaco di Milano, si affilano le ultime strategie quando mancano 11 giorni all'appuntamento col ballottaggio. Dallo staff emerge sicurezza nella capacità di riuscire a convincere i milanesi che non hanno votato al primo turno. Secondo Sala capiranno che il 19 giugno si deciderà il futuro della città. E così gli incontri con Marco Cappato dei Radicali e Basilio Rizzo di Milano in comune per ampliare quanto più possibile la base elettorale. Nessuno lo ammette ufficialmente ma anche il centro-sinistra, così come il centro-destra, tenterà di accappararsi una quota considerevole dell'elettorato dei 5 Stelle. Quel 10% al primo turno che appare quanto mai necessario per raccogliere la vittoria finale. I 5.000 voti in più, portati a casa, sempre nella prima tornata di domenica scorsa, sono un bottino che fa ben sperare ma non viene considerato risolutivo. Si fanno congetture sull'affluenza possibile al ballottaggio, scuole chiuse e storicamente al secondo turno vota meno gente che al primo. Ma visto che questa volta il primo è capitato nel ponte del 2 giugno, forse la situazione potrebbe capovolgersi. Intanto Sala continua a dire che per migliorare la città occorrono soldi e l'unica strada è quella di vendere quote delle aziende partecipate, cosa che però non piace alla sinistra. È stato deciso che scatterà un piano elettorale che prevede una maggior presenza negli appuntamenti cittadini importanti, un maggior coinvolgimento nei problemi delle periferie e domani sera ci sarà una adunata per tutti i volontari alla Camera del Lavoro, un incontro dal titolo Per il nostro futuro partecipa e fai la differenza e sarà proprio il futuro di Milano il tema dominante degli ultimi giorni di propaganda elettorale. Tutti mobilitati, partiti, consiglieri comunali e di zona, amici e simpatizzanti. Il rush finale è iniziato.